I dipendenti sardi dei comparti sanità e autonomia locali che hanno in corso l'avvertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scenderanno in piazza a Cagliari il 5 febbraio. Lo faranno davanti alla sede della Regione per chiedere il supporto dell'istituzione alle rivendicazioni nazionali. La manifestazione è stata promossa da Cigelle e Cisle Will. L'obiettivo è quello di far rispettare gli accordi presi col patto del 30 novembre 2016. Le lavoratrici e i lavoratori della funzione pubblica locale e della sanità pubblica sottolineano in una nota i segretari generali di FP Cigelle, Cisle FP e Will FPL Sardegna, Nino Coise, Davide Paderi e Fulvia Murru vogliono vedere rinnovato il loro legittimo diritto bloccato da nove anni, il contratto nazionale di lavoro. Le organizzazioni sindacali rivendicano tempi stretti per portare a termine l'avvertenza. I ritardi nel confronto sulle parti normative e l'assenza di indicazioni puntuali sulla parte economica dei due contratti denunciano i sindacati sono rispettosi delle legittime aspettative di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta deliberatamente rallentando l'integrazione agli atti di indirizzo che consentirebbero una rapida sottoscrizione dei contratti della sanità e delle autonomie locali. Per questo motivo i sindacati chiedono un incontro con la Regione. Assieme alle doverose risposte e concludere la nota di CGL Cisle Will occorre dare valore alle professioni e migliorare i servizi ai cittadini. In Sardegna inoltre i lavoratori dei comparti pubblici pagano diverse negatività organizzative legate alle riforme e ad elementi peggiorativi sulla contrattazione decentrata e sui fondi.